Cari amici, eccoci giunti a questa ennesima unboxing. Stanno arrivando tantissimi ordini, tantissimi pacchi da tutte le parti del mondo e niente, che a volte rischio di far confusione, sto aprendo un flauto, lo enuncio e magari è un altro flauto che mi ero scordato di aver ordinato da un'altra parte, appunto da un altro paese. Non è questo il caso, so benissimo di che si tratta e di cosa c'è dentro. Allora, andiamo ad aprirlo. Si apre facilmente questo. Premetto una cosa, guardo qui e mi riferisco chiaramente al pubblico di Instagram sui GTV e guardo qui invece mi riferisco chiaramente al pubblico di YouTube. Quindi non fateci caso se sposto lo sguardo lì oppure lì. Sto facendo questa diretta in pratica su Instagram e su YouTube che monterò successivamente. Allora, innanzitutto, vediamo cosa c'è. Quanta carta, la mia profetti benissimo. Stavo dicendo, a me piace farne due alla volta. E in questo caso anche tre alla volta. Cosa voglio dire? Voglio dire che è raro che io abbia fatto ordini multipli. Questo è probabilmente, no, è la seconda volta che effetto un ordine multiplo di ben tre strumenti. Ma vediamo nell'ordine che cosa mi è arrivato. Questo è in India, un Bansurie, originale. Odore adibruciato. Quando odore adibruciato questo tipo di strumenti è un buon segno. Legno abruciato. È in Do. Bene, molto bene. Anche il colore mi piace. Il suono lo devo migliorare perché chiaramente non lo conosco come nello specifico. Oh, il secondo. Questo l'ho comprato già tre, quattro volte. Questo l'ho comprato per me. Perché quelli che avevo io ho venduti, tutti e tre. E questo, no, lo voglio per me perché mi piace come strumento. È in Do minore, dell'Ike Spirit ed è in basso. Alcuni di voi lo hanno già sentito. Ve lo faccio risentire. Come suona? È stupendo. Alla prossima. Alla prossima. sentite come ha vibrante il basso odora di cedro chiaramente trattato molto molto bello questo questo è uno dei prodotti che vengo più di tutti in assoluto un drone si chiama dell'Ikespire sempre sembra una canna di fuggire una doppietta guardate se bello scordo sempre che le telecamere sono due saluto gli intervenuti ciao a tutti non rispondo nelle dirette comunque ciao il mio più cordiale musicale benvenuto questo è un drone cosa vuol dire che suona può suonare singolarmente è un drone in sol e si può suonare in pratica sono due flauti uno dalla notazione pentatonica con sei fuori quindi la possibilità comodissima di eseguire tutti i brani del repertorio musicale compresi note alterate e la possibilità di suonare in automatica il bordone cioè che è un suono che agisce in questo tipo di flauto in modo autonomo con la frequenza giusta molto bello ve lo faccio risentire con la frequenza giusta con la frequenza giusta sembra una corna musa a saperlo suonare questo lo imparerò a suonarlo bene assieme a voi magari da tante soddisfazioni intime soddisfazioni sì è un po' costosetto però ne vale la pena ecco per gli appassionati tiene compagnia come tutti i flauti di questo tipo nativo americane e kena sono strumenti è uno strumento particolarmente intimo che saprà elargire le soddisfazioni intime e consistenti a chi si avvicinasse a suonare questo tipo di strumenti ho finito dura poco benissimo spero di aver esaudito la vostra curiosità per tutti i flauti che mi sentirete e vedrete suonare sono in vendita vi sono flauti che ce li ho disponibili altri invece che bisogna prenotarli dal giorno della prenotazione un mese esatto e avrete il vostro flauto per alcuni di voi dei sogni non mi rimane altro che augurarvi una buona giornata vi ringrazio veramente di avermi seguito in questa mia micro diretta o quasi per youtube e niente il mio amico Anacleto vi saluta ciao fai ciao fai ciao no non vuoi far ciao alla prossima cari amici ciao stacchiamo prima instagram condividi il gtv e poi stacchiamo 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 fai se fossero stacchiamo e poi stacchiamo Grazie.